Almeno a parole Bruxelles continua a crederci. Certo la strada del TTIP, il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, è sempre in salita. A Bratislava nuova riunione informale dei ministri del commercio dei 28, mentre indirittura d'arrivo il CETA dove è stato trovato un accordo. Il trattato tra Unione Europea e Canada è cosa fatta, dichiara la commissaria europea per il commercio Cecilia Malmstrom. Ma quello di cui stiamo discutendo con i canadesi e alcuni stati membri è se si deve o meno fare alcune precisazioni che potrebbero alleviare alcune preoccupazioni, in modo da poter iniziare a lavorare in tempo utile per il vertice di ottobre. Nonostante il no ripetuto della Francia e i forti dubbi che dividono la Germania, il dossier commerciale resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Se il Regno Unito, Italia, Portogallo, Spagna e altri otto paesi hanno fatto sapere che il TTP è un'occasione per modellare le regole del commercio nel XXI secolo, altri 16 stati membri non hanno voluto sottoscrivere la lettera. Intanto, in molte città europee proseguono ormai da settimane le proteste contro gli accordi di libero scambio. Grazie.